Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I nostri figli. Eloquente della misericordia che il Padre ci ha rivelato in Cristo. Egli è la via che ci conduce nell'anno di grazia e di misericordia. Maria ci accompagna e ci invita. Fate quello che Lui vi dirà. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.